Alla farmacologia La cultura esterna non mi era di consolazione. Mi giravo così per ogni stanza, confusa, infelice e in attesa di istanza, istanza che ormai non parea venire e alla quale io non potea sopperire. Giravo così, in lungo e in largo, come amleto indeciso sul mortale targo, con il libro in mano che non mi era di consolazione, aspettando così la meritata cessazione. Sempre più pazza in me diventai e in strane gesta poi mi cimentai. Euforia e tristezza avea in sinergismo, quasi affetta da un raro bipolarismo che mi condusse a far matte gesta, ove i miei neuroni impazziti andavano in festa. Insistato all'alba pasta al sugo mangiai e poi spedita in giro me ne andai. Andai a correre venti chilometri in salita, come una pazza maniaca esaurita, dopo aver attenuato si tal furore in un pianto sconsolato mistetti per ore. Quando poi scrissi canzoni di ormoni danzanti, capii che mi facoltà e allungi dall'essere altalenanti, ma ero ormai tardi per porvi rimedi e costretta fui a sopportare, in silenzio, l'infernal tedio.